Ci avviciniamo alla scadenza della presentazione del progetto per Arezzo, città della cultura. Quali sono i nostri punti deboli e quali sono i nostri punti di forza? La debolezza forse è che questa città ha scommesso troppo poco su quello che è il patrimonio culturale che aveva, ma non so se è una debolezza oppure è una scelta che in qualche modo storicamente poteva rivelarsi utile dal momento in cui la città aveva disponibilità di contare su altri asset importanti, tra cui la manifattura forse, come argomento di crescita della propria economia. Ovvio che nel momento in cui siamo entrati in un periodo di crisi, di sistema sotto questo aspetto, ripensare una leva economica collegata alla cultura è diventato una sorta di esigenza, tenendo conto che la cultura si trascina dietro un altro argomento importantissimo che è quello del turismo. e quindi questo che poteva essere un punto di debolezza, poi alla fine è diventato anche un punto di forza, una leva, come vi ho detto prima, che può contribuire in questa fase a dare un valore aggiunto. Mi spiego meglio. Città oggi, over tourism, come si dice, non hanno grosse appetibilità. Arezzo sotto questo punto di vista rappresenta una perla, se si vuole, è una città che ha grandi patrimoni culturali, grandi patrimoni artistici, ma poco conosciuta. Quindi il coraggio di intraprendere insieme a tutto il territorio questo percorso è un percorso che può risultare estremamente interessante. Quali sono i parametri che le città, quindi anche Arezzo, devono seguire per diventare poi la città della cultura 2021? Il percorso per essere capitale ovviamente è un buon programma culturale, tant'è vero che il bando ci chiede di specificare, di capire quale è il nostro programma. Però è chiaro che questo programma va collegato a degli argomenti o a dei parametri che saranno premianti nella definizione del programma stesso. Per la prima volta in questo anno 2021 il bando richiede esplicitamente un'attenzione verso le giovani generazioni, quindi l'affermazione e l'utilizzo di tecnologie che possono in qualche modo favorire la partecipazione giovanile, ma senza dimenticarsi che ci sono altri aspetti da tenere in debita considerazione che sono appunto percorsi di inclusività, di sostenibilità ambientale, peraltro tenendo a riferimento quello che è l'Agenda ONU 2030, dove sono esplicitati tutti quelli che sono i parametri concorrenti a un'ottimizzazione delle politiche che riguardano la salvaguardia ambientale, che riguardano l'opportunità di genere, minimizzazione degli sprechi e così via. Quindi tanti aspetti che poi alla fine dovranno formare un dossier di candidatura molto attento, pretenzioso, ma anche estremamente mirato, direi, sotto questo punto di vista. Chi saranno i nostri testimonial per Arezzo, i nostri portabandiera? Abbiamo fatto una scelta di campo, cioè alcuni aretini che hanno chiaramente la caratteristica di essere nati in questa città e quindi di rappresentarla, oserei dire, per condizione anagrafica. Altri che hanno sposato il progetto Arezzo, pur non essendo aretini, ma condividendo con noi quelle che sono state le scelte strategiche che in questo tempo hanno segnato, come dire, una progressione in ambito culturale. Fra gli aretini credo dobbiamo citare Andrea Scanzi, Mario Cassi e il gruppo Rock dei Negrita. Tra quelli che invece sono, diciamo così, i portatori di interessi esterni ad Arezzo, ma coinvolti comunque nelle nostre attività, il maestro Donato Renzetti e il maestro Mimmo Paladino, che ha ancora una mostra qui ad Arezzo in questo tempo.